Regolamento sugli arredi urbani di Fano. Il Comune e l'assessorato all'urbanistica devono ricominciare da capo. Questa sera operatori commerciali e rappresentanti di Confcommercio con assessore tecnici comunali si sono ritrovati a ridiscutere diversi aspetti del tanto contrastato regolamento dopo che le parti hanno portato avanti le trattative a mezzo legali per trovare un compromesso che potesse accontentare entrambe le parti. Si è arrivati a questo parziale dietro fronte dell'amministrazione comunale grazie ad una iniziativa della parte in causa e di Confcommercio. A grido di queste regole ci faranno chiudere 25 commercianti firmarono ai primi di dicembre la diffida affinché venisse ritirata la delibera sul nuovo regolamento concordato con la soprintendenza che regolamentava gli arredi urbani per gli esercizi commerciali, tavolini, sedi e ombrelloni del centro storico di Fano. A togliere il sonno agli operatori un paio di punti del regolamento visti proprio come fumo negli occhi ovvero la distanza da rispettare di 3,50 m tra gli arredi e la carreggiata, distanza che per diversi di loro è impossibile da rispettare e l'obbligo di ricoverare tutte le sere gli arredi e anche la limitata scelta dei materiali prevalentemente in ferro. Su questi aspetti ora il Comune è venuto incontro alle richieste dei commercianti. Dopo l'incontro che ci sarà con il Comune, con il Sindaco e con la Giunta faremo proprio anche un incontro come Confcommercio, quindi come direttivo di Confcommercio e con gli operatori soprattutto per parlare dell'arredo. Diciamo che alcune delle modifiche che noi abbiamo richiesto, quindi che gli operatori hanno richiesto come Confcommercio sono state prese e modificate. Diciamo che la cosa veramente importante è che dopo la diffida il Comune ha deciso di abrogare il vecchio regolamento che era stato approvato con la delibera 255 del 2017 e di approvarne uno nuovo con le relative modifiche importanti per gli operatori che quindi sono andate a delinearsi.